Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la resegna stampa di Omnibus. Tra gli argomenti in primo piano sui giornali di oggi, innanzitutto lo scambio dei prigionieri che c'è stato tra Russia e Stati Uniti e che si è svolto all'aeroporto di Ankara, una operazione diplomatica molto delicata che ha coinvolto anche diversi paesi. Tra questi prigionieri avrebbe dovuto esserci anche Navalny se fosse ancora stato vivo. I prigionieri americani sono arrivati negli Stati Uniti e dunque appunto nelle prossime ore poi sapremo più dettagli di quanto è accaduto di questa delicata operazione. Si parla per quanto riguarda gli esteri anche dei funerali bianie che si sono svolti ieri a Teheran. Migliaia di persone hanno partecipato alla preghiera e intanto si attende quella che è stata annunciata dall'Iran come appunto una risposta e c'è massima attenzione e soprattutto attenzione a livello internazionale rispetto a quanto potrebbe accadere. Tra l'altro diverse compagnie aeree hanno sospeso i voli verso Israele, tra queste anche Ita. Sui giornali di oggi si parla anche della fine degli arresti domiciliari per Giovanni Toti dopo appunto la decisione del giudice. Toti che ha parlato subito con i giornalisti. Ci sono delle interviste oggi sui giornali, ne leggeremo appunto per capire qual è la posizione dell'ex governatore della Liguria. Poi naturalmente le Olimpiadi con due ori e un argento nella canoa, nel judo e l'argento nel fioretto. E' inevitabile l'argomento che riguarda quell'incontro di pugilato tra la nostra italiana Carini e l'Algerina che ha creato tante polemiche prima, durante e anche a questo punto dopo. Allora partiamo con il Corriere della Sera. Prigionieri, scambio Russia-Stati Uniti, eccolo qui il titolo principale che troviamo su questo giornale. Ad Ankara operazioni in stile guerra fredda, tra i 24 liberati Gershkovic, il cronista del Wall Street Journal e l'attivista Kara Murza. A Teheran i funerali di Anie, Kamenei prega sulla bara, l'Iran, Israele pagherà caro. Ci sono anche dettagli per quanto riguarda la ricostruzione di Anie, perché secondo il New York Times sarebbe stato ucciso da una bomba che sarebbe stata nascosta due mesi fa nella palazzina e che poi sarebbe stata azionata a distanza. E questo naturalmente apre una serie anche di interrogativi. Non un missile, non un drone, ma una bomba. Secondo il New York Times, Ismail Anie è stato eliminato con un ordigno arrivato in Iran due mesi fa e nascosto nella palazzina che avrebbe ospitato l'esponente palestinese e pronto per essere innescato al momento giusto. Questo è l'articolo a firma di Guido Olimpio. C'è un'intervista oggi sul Corriere della Sera. Il ministro Piantedosi, siamo in allerta, difenderemo gli ebrei dagli estremisti. Di spalla, Toti, ora è libero, eccessivo. L'arresto ho fatto politica, parla l'ex governatore. Vedremo appunto i dettagli di questa intervista che troviamo in questo caso sul Corriere della Sera. L'arresto è stata una cosa eccessiva, dice ho la coscienza a posto. Ricordiamo che era domiciliari dallo scorso 7 di maggio. Sul Corriere della Sera oggi c'è anche un'intervista a Giuseppe Conte. Movimento 5 Stelle, nuovo nome, decide l'Assemblea, dice il marchio, non è di grillo. E poi è stato approvato con il DDL Sicurezza la stretta sulla Cannabis Light, che sarà illegale tra le proteste delle opposizioni. Questo appunto quanto è accaduto alla Camera. La Cannabis Light così diventerà appunto illegale. ci sono le proteste dei produttori e anche diverse migliaia di posti di lavoro a rischio. A centro pagina la sfida con la pugila algerina. Carini, ritiro lampo e polemiche. Questo incontro che è durato meno di un minuto, 46 secondi per la precisione sul ring. Mai preso pugni, così dice. La Meloni che ieri era a Parigi ha commentato quanto accaduto, ha detto che non è stato un match alla Pari. Vediamo l'apertura della Repubblica. Anche qui in primo piano i giochi, il K.O. dei diritti, titola Repubblica. L'incontro Carini-Cliff dura 46 secondi. L'italiana mi hanno detto di non combattere. La destra contro l'argerina intersex. Meloni una competizione non equa. Salvini vergogna, ma davanti alla Premier giudoca Bellandi bacia la fidanzata. Da piante dosi stop alla Cannabis Light, equiparata alle droghe pesanti. In taglio alto gli esteri, USA, Russia, scambio di 007 e di prigionieri. Ancora anche qui si parla degli altri due argomenti. Del leader di Amassani è ucciso da una bomba sotto il materasso, sarebbe stata piazzata. E poi Toti Libero che parla di un processo politico e dice mi difenderò. A centropagina le due foto che simboleggiano un po' la giornata dei giochi di ieri. Angela Carini durante l'incontro con Imane-Cliff alla fine decide di abbandonare e si dispera per questo. E sotto il bacio tra Alice Bellandi e la fidanzata Jasmine Martin, la giornata d'oro per il judo e la canoa, argento per il fioretto femminile. La stampa in primo piano, le Olimpiadi con la politica che sale sul ring e le polemiche appunto che ci sono state. L'incontro con Khalifa che diventa un caso internazionale. L'allenatore italiano, sorpreso, avevano già combattuto, dice. E ancora Imane l'essere umano trasformato in mostro. C'è appunto uno dei tanti commenti che troviamo oggi sui giornali. Un'intervista anche a Federica Perlegrini che dice che vomito questa caccia alle streghe. Autonomia non subito. Giorgia, Gela, Zaia e Cirio. Argomento politico che resta in primo piano mentre va avanti la raccolta di firme per chiedere il referendum. C'è una frenata da parte appunto della Premier. Non ci sarà un trasferimento di deleghe almeno entro questa legislatura. Questa è la linea della Premier. Andiamo a vedere l'apertura del Sole 24 Ore. Sanità a rischio con il nuovo patto europeo. Questo è l'argomento in primo piano su cui titola il Sole 24 Ore. Per i magistrati contabili la riattivazione dei vincoli può avere impatti pesanti. L'aumento dei fondi è inferiore all'inflazione, spesa in calo rispetto al PIL. Al pronto soccorso molti pazienti non trovano posti in reparto. A Palermo questo accade, mentre a Milano anni guarda la fuga dei medici rende il lavoro impossibile. Dunque c'è un'attenzione particolare nei confronti della sanità e delle difficoltà. A centro pagina, il troppo caldo mette in pericolo i rifugi. Piano di verifiche per 58 strutture. Questi sarebbero alcuni degli effetti del cambiamento climatico. All'apertura del fatto quotidiano è dedicata alla fine dei domiciliari di Toti. Appena uscito Toti già briga per il Parlamento. Candi da cavo percorrere nel suo seggio. Attacco ai giudici. L'ex presidente fuori dai domiciliari vuole la fedelissima al suo posto e invoca una legge per scudare i politici dai processi. Diamo un'occhiata anche al Foglio. L'ONU immobile di fronte al terrorismo, a firma di Claudio Cerasa. Israele e Kiev, la difesa delle nostre libertà e la vergogna di Guterres. Vediamo anche l'apertura del domani. In primo piano ha due argomenti. L'Iran, che celebra i funerali di Anì e prepara la sua reazione a Israele. Ieri Teheran ha riunito i propri alleati per discutere cosa fare dopo l'uccisione del capo politico di Hamas. Dunque si prepara ad una reazione. L'opinione pubblica israeliana teme per la sorte degli ostaggi. Tel Aviv può interrompere la guerra perenne. E poi scontro olimpico sul corpo di una donna. Andiamo a vedere prima della pausa anche l'apertura del giornale. Toti torna libero, vi racconto il mio calvario. Ho mai preso un centesimo e ho un processo alla politica. Anche qui troviamo un'intervista questa mattina. E poi sempre sulle Olimpiadi. Giochi sporchi, un pugno alle donne. La Carini sconfitta dalla rivale intersessuale. Non ho mai avuto paura. In ginocchio solo per papà. Allora facciamo una cosa. Ci fermiamo un attimo per qualche minuto di pausa. e riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio. Proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del Di Libero. Anche questa dedicata all'incontro di Pugilato di ieri. Ha vinto lei, la donna che mette la sinistra al tappeto. La gerina tira pugni da uomo. Carini si ritira dai giochi. Ma Boldrina e compagni menano l'azzurra. Meloni la incontra. Una gara non ad armi pari. Il manifesto. Anche qui si parla dell'incontro. In taglio alto Meloni una gara non equa. A centropagina però il titolo principale. Li fermi chi può a Terran i funerali del capo di Hamas. L'Iran giura vendetta e sbollà. Piangerete. Israele prepara l'invasione del Libano. 300 giorni di guerra a Gaza. Non bastano le diplomazie globali Medio Oriente. Sull'orlo di una guerra ancora più grande. Il resto del Carlino. In prima pagina anche qui l'incontro di Box. E in taglio alto fuori legge anche la Cannabis Light. Sul fatto che è passato l'emendamento che vieta la coltivazione e la vendita. A settembre l'approvazione definitiva del provvedimento. Il questore Pignataro giusto. Provoca dipendenze. I produttori che avvertono 10.000 posti a rischio. E c'è anche il sì alle bodycam per la polizia che saranno però facoltative. Quindi ogni agente potrà decidere se portarla o meno. Il tempo. Giochi tarochi. La folia walk sul ring. La intersex calif. Picchiadure. La carina abbandona in lacrime. Mennesimo episodio dei giochi di Macron. Dal vomito degli atleti nella senna inquinate ai mini pasti senza carne fino ai letti di cartone. La vergogna è olimpica. Vediamo anche l'apertura della verità. Perde l'italiana e vince la realtà. E ancora tutte le ombre su Pignatone. Mollato da politici e cronisti. Gaspari, l'ex procuratore capo di Roma, si dimetta e parli questo appunto per il fatto che Pignatone è indagato nell'ambito di un'inchiesta su mafia e appalti che risale agli anni 90. E ancora lotta agli occupatori di casa e fuorilegge la Cannabis Light. L'altro titolo che troviamo in prima pagina sulla verità. Avvenire. Apertura dedicata allo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia. Scambio virtuoso. E poi appunto le altre notizie dal Medio Oriente e i giochi olimpici con le medaglie. Ancora vediamo l'apertura dei giornali sportivi rapidamente. La gazzetta dello sport. Ori da urlo con Giude Cano e altri due trionfi all'italiana. E poi ricordiamo appunto che c'è l'argento del Fioretto e il Corriere dello Sport. Oro da baciare. Trionfi storici di Bellandi e De Gennaro. Meravigliosa Italia all'Olimpiade. Altre tre medaglie. Ora siamo a quota 16. Allora andiamo subito alle pagine interne dei giornali. Partiamo dagli esteri. Vediamo un po' l'analisi di quello che è accaduto di questo scambio di prigionieri. Una cosa che non accadeva dai tempi della Guerra Fredda. è dunque un aspetto molto importante, un tassello forse nei rapporti tra Stati Uniti e Russia. Se ne parla appunto su diversi giornali con diverse analisi. Partiamo dalla Repubblica. Un punto per Putin ma la mediazione turca apre uno spiraglio per la pace in Ucraina. Lo storico scambio di prigionieri tra Russia e Occidente è mai visto per numeri e ampiezza geografica neppure durante la Guerra Fredda. è la prova che un canale tra Mosca e Washington c'è e può funzionare anche nel momento storico più basso dei loro rapporti. Seguito all'offensiva russa in Ucraina, Joe Biden e Vladimir Putin sono riusciti a raggiungere un accordo allargato anche a Germania, Norvegia, Slovenia e Polonia. Ancora una volta con la mediazione della Turchia di Erdo, anche già si era fatta promotrice dei negoziati a Istanbul tra Mosca e Kiev nel marzo del 2022 e poi dell'accordo che ha consentito per un anno il passaggio sicuro nel Mar Nero delle navi ucraine cariche di grano. Quanto questo scambio possa aprire spiragli sui futuri negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina è però tutto da vedere. Per alcuni osservatori il Clembrino ha visto un'opportunità per isolare Kiev dimostrando che può negoziare direttamente con la Casa Bianca ma l'Occidente ha ribedito più volte che non può esserci un accordo sull'Ucraina senza l'Ucraina. ha un ruolo importante, lo ha giocato e potrebbe giocarlo il fattore del tempo. Altra questione che troviamo sul Corriere della Sera tra Casa Bianca e Cremlino colloqui sempre attivi con la regia di Sullivan, il ruolo di Scholz fondamentale, la sponda dei turchi. L'operazione avrebbe dovuto comprendere anche Alexei Navalny morto a febbraio. Lo schema è stato sperimentato già nel 2022, appunto l'abbiamo detto scambiando la cestista Greener e l'armiere Booth. Abbiamo un'intervista da vedere sul Corriere della Sera al politologo, eccolo qui, Sergei Markov, che dice tra noi e voi scontro mai così feroce e negoziati con Kiev sostiene nessun legame. Meglio uno scambio di prigionieri che niente, gli viene chiesto, certamente anche con l'Ucraina ce ne vorrebbero di più. Il problema è che Zelensky dice li blocca, noi diciamo scambiamo 100 con 100 o 1000 con 1000. Zelensky invece propone tutti per tutti, ma è impossibile perché noi ne abbiamo almeno 5 volte tanto, come ha detto Putin, e poi un bel numero di prigionieri ucraini non vogliono tornare a casa. Che cosa pensa di questa svolta? A titolo personale sono contento di questo baratto, perché tra le persone che hanno ritrovato la libertà ci sono dei miei conoscenti. E poi ancora, gli viene chiesto, potrebbe essere forse un preludio ai colloqui di pace tra Russia e Ucraina? E lui dice non c'è alcun legame, non si tratta di un miglioramento, ma della presa d'atto del pessimo stato di rapporti. Molti esperti con cui ho parlato pensano che questo scambio possa essere indicatore di un ulteriore deterioramento. I servizi segreti, consapevoli di un probabile peggioramento della situazione, hanno spinto per attuare lo scambio. Al più presso è stato anche sottolineato da parte nostra che l'Ucraina non c'entra nulla con questa storia. E prima ancora gli veniva chiesto, è stato un gesto di buona volontà da parte del Cremilino, la concessione russa alle inesistenti richieste americane? È una concessione da parte degli Stati Uniti, dice si è contrattato perché era difficile venire a patti, ma secondo me hanno ceduto gli Stati Uniti perché alla parte americana importa che Kamala Harris accolga le persone liberate mostrandosi patriota, un compromesso è stato fatto dagli Stati Uniti. La logica è molto semplice, si scambia chi si vuole, poi si paragonano i pesi e si trova il giusto mezzo. Questa è una delle analisi che troviamo oggi sui giornali rispetto allo scambio dei prigionieri. Siamo sulla stampa, killer e spie contro reporter e attivisti, le due russie nel baratto di Putin, le liste dei prigionieri raccontano la strategia di Mosca, purghe in patria e infiltrati nel mondo. Peskov che dice i nostri nemici vadano pure all'ovest, ma c'è chi lo legge come un invito a negoziare. Dunque, come vedete, ci sono vari punti di vista. Parliamo un attimo della folla oceanica ai funerali per il leader di Hamas. Teheran, che però intanto prepara l'attacco, è una raffica dei razzi dal Libano. Israele mette l'esercito in massima allerta. La rivelazione appunto del New York Times, Ani è ucciso da una bomba piazzata mesi fa. Questo appunto quanto sarebbe emerso nelle ultime ore. Ancora sempre dalla stampa, l'ala militare in ginocchio, ma Hamas è tutt'altro che finito. È stato mutilato, ma come forza politica ha ancora diverse carte da giocare senza una soluzione diplomatica. L'annientamento del gruppo è impossibile. L'equilibrio Teheran e Qatar e Turchia ne sta assicurando la sopravvivenza. Questo appunto l'analisi che troviamo sulla stampa questa mattina. Andiamo a vedere le pagine che riguardano la politica, perché ci sono diversi aspetti. Innanzitutto partiamo dall'intervista, eccola qui, vediamo se riusciamo ad aprirla. Eccola a Giovanni Totti, l'ex governatore della Liguria, che sappiamo si è dimesso e che da ieri è tornato in libertà. Un eccesso a restarmi. La politica si è sottomessa al sistema giudiziario, dice l'ex governatore Liguria. Ci sarà una lista, dice, ma io non corro. Gli viene chiesto appunto in questa intervista come sono stati questi tre mesi e lui dice non voglio drammatizzare oltre la misura, non è lo Spielberg e io non sono Silvio Pellico, il posto è gradevole, la famiglia mi ha coccolato, ma ritengo francamente che le accuse, la tempistica, la dinamica e la carcerazione siano state un eccesso. Quando il 7 maggio le hanno notificate i domiciliari cosa ha provato? Ho preso la cosa come una fatalità con cui prendi un incidente, sai che ti è capitato e cerchi di superarlo. In questi tre mesi, lui dice, un profondo senso di ingiustizia, un po' di impotenza, anche quella di un sistema politico che si è fatto mettere molto in subordine dal sistema giudiziario. Non sarebbe stato meglio che con Aldo Spinelli avesse un rapporto meno familiare di quello che emerge dall'inchiesta? Gli viene chiesto le intercettazioni dimostrano solo un pezzettino della scena. Ho trovato uno spaccato della mia vita costruito, montato, indirizzato e analizzato sul rapporto con un'unica persona, ma il trattamento che Spinelli ha avuto da me è stato lo stesso di tutti gli imprenditori della Liguria, ai quali abbiamo sempre dato attenzione perché crediamo nell'impresa e poi finanziassero i miei comitati, oppure no, non aveva importanza. Ha molto colpito che andasse a trovare Spinelli in barca, lo faceva con tutti e lui dice questo fa parte del moralismo di certa politica italiana che frequenta le barche, però punta il dito contro gli altri incontrato. Gli imprenditori dice ovunque e questa è una parte dell'intervista che troviamo a Toti sul Corriere della Sera. Il centrodestra che dice adesso può difendersi e i giudici che sottolineano con le dimissioni attenuate alle esigenze cautelari, ma resta, dicono, la gravità delle accuse. Altra intervista che volevo segnalarvi sul Corriere della Sera, eccola qui, è quella al Ministro dell'Interno Piantedosi. L'antifascismo per il governo valore condiviso, proteggeremo gli ebrei dagli estremisti. Oggi sarò a Bologna sulla strage di 44 anni fa, la matrice nera è accertata. Sull'antisemitismo poi c'è un richiamo, in particolare dice in alzata la vigilanza su centinaia di obiettivi vicini a Israele. In pubblico ho rassicurato la senatrice Segre a nome dell'esecutivo. Questo è appunto uno dei passaggi che trovate in questa intervista. Altra intervista sul fronte politico che vi segnalo è quella di Giuseppe Conte, eccola qui, che troviamo sempre sul Corriere della Sera. Dal nuovo nome ai mandati, la base può decidere tutto. Grillo, io vado avanti. Conte, il logo non è suo. Non si possono trattare prima i temi con lui, sottolinea in questa intervista che troviamo sul Corriere della Sera. Andiamo un attimo però sulla stampa, perché volevo parlare un attimo della questione dell'autonomia differenziata. È in corso la raccolta di firme, ma come ci racconta la stampa, Fratelli d'Italia stoppa i governatori del Nord. Per ora, niente deleghe, i fedelissimi di Miloni, nessuna materia sarà trasferita in questa legislatura. Schlein, dopo il mezzo milione di firme raccolte, in pochi giorni il governo si fermi. La premia frena. Prima di attuare la riforma vanno fissati i LEP e Conte, che dice, se chiamate a discutere su questioni vere e importanti, i cittadini rispondono. Questo per quanto riguarda appunto le questioni legate al referendum. Una notizia di cronaca che volevo prendere dalla Repubblica. Eccola qui, ad Afragola, il frate mandante di una rapina per recuperare i video con gli abusi. Anche un paroco accusato di violenza, arrestate altre quattro persone, il racconto della vittima, rapporti in cambio di cibo e di sigarette. Questo appunto quanto è emerso, quanto è accaduto ad Afragola. Andiamo alle pagine che riguardano inevitabilmente l'incontro che c'è stato ieri di Bocco, un pugno di polemiche, titola La Stampa, che riporta un'intervista dell'allenatore. Shock dell'allenatore, non me l'aspettavo. Questa bomba mediatica, dice, ha inciso molto. Non voglio pensare che l'avesse deciso prima. Dopo l'abbinamento con Khalifa, Angela era delusa per aver trovato una rivale difficile. Comunque servono regole per il futuro, dice in queste interviste. Sulla stampa c'è un'intervista anche ad Angela Carini, che dice «Non ho perso e non mi vergogno, mi chiedevo chi sto affrontando l'Azzurra dopo la rapida sconfitta e l'addio ai giochi, se questa ragazza e qui ci sarà un motivo, ho solo sbagliato», dice, a non salutarla, perché appunto alla fine dell'incontro si è avvicinata e lei non ha voluto salutarla. Prima di chiudere volevo farvi vedere un articolo che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, i perché del caso Khalifa, una donna ma iperproduce ormoni maschili, l'endocrinologo Angelini e i valori dell'argerina e il testosterone modifica la forza e la prestazione. In questo articolo appunto si analizza proprio questo aspetto che ha creato tante polemiche. Io mi fermo qui con la rassegna stampa di questa mattina e buongiorno a Palo Suttocorona con noi in studio. Grazie Emanuela, buongiorno. Come al solito a quest'ora del mattino di nuvole ce ne sono ben poche e su molte zone non è che poi compaiano nel pomeriggio. Ancora una volta notiamo come al di là dell'arco alpino ci sia un passaggio di zone nuvolose, ma sono proprio, come usa dire, usa insomma il termine tecnico, proprio corpi nuvolosi consistenti che danno quindi delle piogge. Vediamo la previsione per la giornata di oggi. Una certa instabilità, quindi da quella situazione che passa al di là delle Alpi qualcosa filtra, qualcosa entra di aria instabile. Aria instabile significa che nel pomeriggio si possono formare, vedete si prende anche la Liguria in maniera debole, questo è confermato anche dai giorni precedenti, debole come precipitazioni anche le miglia, quindi parliamo anche delle zone di pianura, non soltanto in quelle alpine. In quelle alpine i fenomeni sono decisamente più frequenti. Centro e sud, sempre con cielo sereno, poco nuvoloso, ma il grigio di qualche nuvola che si affaccia. E già questa sarebbe una novità. Previsione per la giornata di domani. Il fatto nuovo, diciamo, confermato, è che non solo l'instabilità è presente al nord, e neanche su tutte le zone, però per esempio Liguria, Alta Toscana, fra l'Emilia e la Romagna. E poi vedete Toscana, Umbria, parte del Lazio, qualcosa sull'Abruzzo, qualcosa anche al sud, quindi l'instabilità del pomeriggio che si affaccia anche sull'Appennino, quindi sulle zone interne del centro. Bene, vediamo anche la giornata di domenica, in cui questa instabilità al centro e al sud già si esaurisce, quindi sarà sabato, una giornata un po' incerta, al nord rimane soprattutto sulle zone alpine e prealpine. In pianura questa volta arriva ben poco, anche se sulla Liguria qui e là qualche piccola precipitazione ci potrebbe essere, oltre alla solita zona all'interno della Corsica, che conferma questa situazione. Anche al sud in realtà, ma vedete, sono proprio isolatissimi. Le minime di questa mattina, sempre piuttosto elevate, si superano facilmente sulle zone del sud, soprattutto i 23, anche i 24 gradi, che insomma per essere una minima sono piuttosto elevate, al nord sulle zone del centro fra i 18 e i 20, per avere un'idea. Stato dei mari, beh, la situazione di alta pressione, venti debolissimi, mari li possiamo considerare quasi calmi, proprio essere cattivi, se no proprio calmi. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale, con Emanuele Agarulli, da più tardi.